Insieme si muo' continua con le iniziative legate al rispetto della legalità. Quest'anno il tema è importante, si parla di ambiente, di legami con la criminalità organizzata. Lo chiediamo a Franco Minici che è il presidente di Insieme si Può, che è un'associazione che come tutti sappiamo opera nel settore e evidenzia spesso problemi sociali che creano grande disagio. Quest'anno tocca all'ambiente. Tocca all'ambiente, ogni anno troviamo l'occasione per stare insieme ai cittadini e creare momenti di riflessione. Qualche anno fa sei stato compagno di viaggio in tutte le occasioni di Insieme si Può. Abbiamo parlato dei beni confiscati alla mafia, abbiamo avuto due momenti, due occasioni durante le quali abbiamo analizzato e fatto anche delle proposte per quanto riguarda quel settore. Quest'anno si parla di ambiente, sì, perché ho avuto il privilegio di conoscere una persona di cui non sapevo l'esistenza, ma un ragazzo di Cavolonia che è uno scrittore, un ragazzo che ha scritto, ci ha pubblicato due libri che mi onora della sua amicizia. Abbiamo parlato, abbiamo trattato questo argomento, abbiamo deciso insieme di portarlo così a livello di discussione insieme a alcuni ordini professionali come gli ingegneri, gli architetti paesaggisti, insieme al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, insieme alla Camera Penale, insieme a tanti Lions, di Logri, insomma molti organi, molti soggetti che ci hanno aiutato in questo percorso e abbiamo deciso di creare un momento di aggregazione durante il quale parlare di problemi ambientali. Magari nello specifico entrerà meglio Andrea che è qua vicino a noi. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno dato una mano. Lega Ambiente che è diventato fondamentale, importante, proprio per questo percorso che stiamo facendo. Tra l'altro c'è una cosa che ci ha onorato e un orgoglieto moltissimo, che vi farà vedere adesso Andrea, ospiti autorevolissimi di grande spessore culturale, abbiamo il generale Vadalà, tra l'altro spessore culturale istituzionale, il generale Vadalà che è il direttore dei siti da bonificare, quindi con un incarico governativo, ci sarà un parlamentare della Commissione Ambiente che è l'onorevole di Polito, ci sarà un magistrato che è la dottoressa Luigia Spinelli, nostra conterranea, quindi grande onore anche per la nostra terra perché ci sono personaggi come la dottoressa Spinelli che ha combattuto questo tipo di reati nella terra dei fuochi, ha fatto parte della Commissione di Revisione del Codice Penale per i Reati Ambientali, insomma un personaggio di grande spessore. Avremo un rappresentante del Consiglio d'Ordine degli Avvocati, che è l'Avvocato Nicola Grimeni, ci sarà la dottoressa Tripodi, l'ingegnere Tripodi, Margherita Tripodi parlerà, che è la coordinatrice dell'Ordine degli Ingegneri presso la Commissione Ambiente, ci saranno un giornalista, credo Luigi Cordova, Claudio Cordova scusatemi, Reggio Calabria, anche lui comunque impegnato alla lotta e alla criminalità, ci sarà Andrea Carnini che è il personaggio di punta perché andrà a parlare proprio dell'argomento specifico, insomma un parterre molto nutrito di persone che daranno il loro contributo e daranno spunti di riflessione su un argomento così importante. Ecco la presenza anche di un sindacato importante come il vostro, del SIULP, che organizza, quindi sindacato di Polizia, che non poteva non esserci, e poi per il resto? Il SIULP, sì, insomma, è come delle mie, segue da sempre le iniziative, le sostiene, e le porta avanti insieme a me, il mio onoro di appartenere alle file del SIULP ormai da moltissimi anni, sì, molti ospiti, avevamo invitato anche il questore di Reggio Calabria, ci ha fatto sapere con una nota di un riego che non sarebbe stato presente per impegni già assunti, ma con un pizzichino di amarezza prendo nota che non ha neanche avuto la sensibilità di farsi rappresentare da qualcuno per portare i saluti della questore di Reggio Calabria e del questore di Reggio Calabria su un argomento così delicato, così importante, che riguarda comunque la legalità, perché si parlerà di legalità, si parlerà di criminalità, si parlerà di come la criminalità abbia un impatto sia sulla formazione dei rifiuti e sia poi nello smaltimento, adesso è iniziato a essere un pochino più intelligente. Quindi una nota di amarezza su questo, dato che il questore è molto attento, sto vedendo che sta portando avanti iniziative in tutte le scuole, insomma così è sempre presente lui o i suoi funzionari, per questo ovviamente queste sono affermazioni che faccio come presidente dell'associazione Insieme Si Può, solo e esclusivamente in questa veste. Un ringraziamento anche all'amministrazione comunale di Roccella, al sindaco Zito, all'assessore Cartolano e tutta l'amministrazione comunale ovviamente perché come sempre ogni anno ci hanno sostenuto e accompagnato in tutte le iniziative che Insieme Si Può ha portato avanti, quindi grazie immensamente e chiudo con un grazie anche a una sorella, a una compagna di avventura e di cammino che è Telemia. Grazie a Telemia, a Giuseppe e a tutti gli operatori di Telemia che sono stati insieme a noi in tutti questi anni. Andrea Carni, in mano una palla, una biglia, con lui incise il numero 25 e poi un'asta che somiglia a una canna da pesca, ma una canna da pesca non è, è un simbolo legato al percorso di legalità e giustizia per il 25esimo anniversario della morte di Natale De Grazia. Quindi tu ne vai fiero e l'hai voluto portare appunto qui nei nostri studio. Sì, grazie per questa opportunità, do una rapida spiegazione di questo simbolo. Ieri c'è stata la commemorazione per così dire ufficiale per il 24esimo anniversario della morte del capitano Natale De Grazia morto in circostanze ancora poco chiare, su cui si cerca ancora giustizia e la commemorazione è avvenuta in uno spazio bellissimo e importante sia da un punto di vista sociale che di legalità ossia Samarkanda. Samarkanda era una sala giochi sostanzialmente che è stata sequestrata e poi confiscata al cosiddetto re dei videopoker, Campolo, dranghetista di Reggio Calabria. E appunto il simbolo, la stecca da biliardo e la biglia, la pallina del biliardo, però con il numero 25 con un'aggiunta di rilievo perché ieri il circolo di Reggio Calabria, di Lega Ambiente, sostenuto a piene mani da Nuccio Barillà, appoggiato a piene mani da Nuccio Barillà, che è un esponente storico e che ci onorerà oggi della sua presenza all'interno del convegno, a parte del convegno Metanatura, ha iniziato questo percorso che inizia appunto il 12 dicembre 2019 verso il 25esimo anniversario della morte di Natale di Grazia, 12 dicembre 2020. La cosa fantastica che è avvenuta ieri, totalmente inaspettata per di più, è che il passaggio di mano, perché sostanzialmente questa stecca e questa palla passeranno, questa biglia passeranno come testimone da evento in evento per poi tornare il 12 dicembre 2020 lì al Samarkand.